e saluti ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono dailycraft 72 e benvenuti in un nuovo video della lava run allora iniziamo subitissimo e iniziamo ho disattivato? si corriamo subito perché non vorrei morirci ok no 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 corri 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 no la la fa sta la la fa sta la no corri subito corri 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 Sì, ok, perfetto Numero due Ok No, non mi vuole sprint Che bella cosa Oh cacchio Dai, che ce la possiamo fare? Ok No, 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 no La lava, la lava No Cacchio, siamo morti E niente Anche questa volta La lava ha vinto Spero vi sia piaciuta Iniziamo col secondo episodio Ciao E saluti ragazzi Benvenuti in un secondo video Iniziamo subito Via No, 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 no Non parte Non mi parte lo sprint Che bella vita ragazzi No Perché Mi deve rimanere lo sprint attivo Quando non deve Allora Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Dai Dai, 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 dai Dai che ci riesco Ok No, 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 no Vai Ok Vai Perfetto Dai, 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 dai Ho, 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 sii 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 Allora Adesso Ko sii Ko sii No, 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 no. Così, 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 così. No! 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 Che brutta cosa, mi sta raggiungendo la lava, no! No, 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 no del canale e ci vediamo con un prossimo video ciao